Ecco, ci troviamo nel secondo tempo, sempre in parità 0-0, questa gara secca degli play-off qui a Farafilumpetri tra la locale compagine e i nostri ragazzi della Virtus Castelfrenten. Calcio d'angolo, adesso calcio d'angolo a nostro favore, già battuto, calcio d'angolo, altro calcio d'angolo, ecco i nostri tifosi si riscaldano ulteriormente, il nostro tifo giallo-rosso qua in trasferta, c'è anche l'operatore della rete online. Niente di fatto a quest'azione, niente di fatto a quest'azione. Si riprende con calcio un fallo laterale a favore della Farafilumpetri.